I grandi sconfitti di questo primo turno sono i due grandi partiti francesi, socialisti e la formazione di centrodestra e i repubblicani. Nessuno dei due ha visto passare il proprio candidato al secondo turno. François Fillon, candidato dei repubblicani. Mi assumo la totale responsabilità della sconfitta che dipende interamente da me. Favorito per la corsa all'Eliseo, in piena campagna elettorale, Fillon è stato azzoppato dallo scandalo sugli impieghi fittizi alla moglie, rivalato da un settimanale francese, cui è seguita l'inchiesta giudiziaria aperta dalla Procura di Parigi per appropriazione in debita e abuso d'ufficio. Contrattaccando e accusando la stampa di creare inchieste ad hoc, Fillon ha deciso di non fare quel passo indietro che molti all'interno del partito ospicavano. La dirigenza del partito si è riunita lunedì per dare le proprie indicazioni di voto con il fine di arginare l'onda lunga del fronte nazionale di Marine Le Pen al ballottaggio. Sconfitta attesa anche in casa socialista, ma probabilmente non erano attese queste proporzioni ridotti ad un 6% i socialisti questo lunedì non hanno potuto far altro che constatare l'enorme disastro. E' chiaro che si tratta della fine di qualcosa e dell'inizio di qualcos'altro. Adesso è nostra responsabilità di creare una nuova proposta politica in grado di federare e che ci consente di incarnare una speranza nuova per i francesi. Malgrado sia uscito vincente dalle primarie socialiste, Benoit Hamon è stato boicottato dagli stessi compagni di partito per le posizioni troppo critiche nei confronti delle politiche del governo. Ma non solo, Hamon in effetti ha pagato anche i 5 anni di presidenza Hollanda, ritenuta dalla maggioranza dei francesi disastrosa. Archiviata la corsa all'Eliseo, socialisti e repubblicani guardano ormai alle legislative di giugno.